Il dispari non va bene, il ministro del pari fa il campionato. E qui la vuole alla tarta. No, sarei l'ultimo dalla serie, perciò mi piace essere l'ultimo, magari penultimo. Sicuramente il Milan non meritava di uscire. Ha avuto un po' di sfortuna, ma la squadra è sicuramente superiore al Tottenham. Bisogna allenarsi bene durante il campionato per vincere i Champions. Durante il campionato qui si allenano con il vento in poppa a certe squadre. Max è bravo, perciò direi una bugia se dicessi il contrario. Quando parla di vento in poppa intende che ci sono impegni poco difficili per molte grandi squadre? Diciamo pure che una spinta in Italia diventa molta pressione. Gli arbitri internazionali, anche se sono meno bravi dei nostri, hanno una pressione della nostra, invece in una maniera diversa. Io, se dovessi parlare di Franco Carraro, non è problema che parlare bene. Abbiamo fatto una nuova Lega, stiamo cercando di riformarci il futuro. Se la nostra bravura di imprenditori è quella di riproporre i nomi di 30 anni fa o di 10 anni fa, pur essendo i nomi importanti, vuol dire che siamo privi di idee. E questo è un problema. Franco Carraro, ripeto, se dovessi parlare di Franco, non puoi parlare bene. Però guardo un po' avanti. Non puoi parlare bene.